E quindi di incrociare un sentimento un po' anti-tasse, anti-immigrazione, altro portato di questa globalizzazione, di sviluppare dei meccanismi difensivi sostanzialmente, no? Mi chiudo in un territorio omogeneo e cerco di difendermi dal mondo, così non mi arrivano in casi guai. Questo avviene, è avvenuto, c'è stato un fenomeno anche europeo, poi noi si è svolto in modo particolare, ma è un fenomeno generale, cioè la globalizzazione dove c'erano conquiste di web... Cioè la sinistra come può reagire? Ma intanto cantandoli quando va accantate, perché adesso a questo punto la Lega cosa vuole? È lì in giro dal 94 con Berlusconi, ha governato sette anni degli ultimi nove, il riassunto qual è? C'è meno fisco? C'è meno... dov'è? Dov'è la soluzione? Sai che mi diceva prima Domenico Livieri chiacchierando, forse tante cose che dice la Lega sono anche chiacchiere, però loro stanno sul territorio come ci stavano una volta in PC. Sì, stanno detto, ma ci stiamo più noi, abbiamo fatto 2000 feste, li battiamo 10 a 0. Il problema è l'ideologia, cioè tu magari hai dei guai, non li risolvi col fisco, con le cose, fai una bella polemica con una moschea o con l'immigrazione o con la cosa... Ma loro vanno in fabbrica a leghisti, c'è che ormai gli operai votano la Lega? Ma ci andiamo noi in fabbrica, no. Le operai sono figura sociale... Ma lei ci va, perché PD per qualche tempo non ci è andato, lei ha una passione per le fabbriche. Io non l'ho messo qua, assolutamente. Però insomma, per tanto tempo, più le feste che le fabbriche avete fatto. L'operaio è un conto è l'operaio a Modena, l'altro conto è l'operaio a Varese, insomma, ci sono i contesti territoriali, ci sono culture che si diffondono, ma la Lega adesso sviluppa un'ideologia, la ideologia è la forza della pietra, eh. Entendiamoci, quando tu fai passare l'idea che difendendo... Anche nel mondo post-ideologico di oggi. Post-ideologico ce l'hanno raccontato che non c'erano più ideologie. Ma il berlusconismo cos'è? Se non l'idea che pensi in me fa come puoi, fa come vuoi. È un'ideologia, se no non diremmo berlusconismo, così come diciamo leghismo. È un'ideologia, siamo noi che ci siamo arresi al fatto che non ci sia un'ideologia e quindi non abbiamo sviluppato i nostri valori, che sono alternativi e diversi e sono più efficienti per una società sviluppata. Perché tu non puoi chiuderti davanti al mondo. Se c'è la migrazione, c'è l'immigrazione e devi rendere la tua società abbastanza matura per affrontare questo problema. Nei suoi disordini da colmare, nelle sue efficienze, nelle sue positività da riconoscere. Perché se no non siamo nel mondo di domani. Noi dobbiamo sviluppare questo tema. È chiaro che siamo in una situazione dove in tutta Europa c'è una tendenza di questo genere, intendiamoci. E quindi sono tendenze anche pericolose. Aveva accennato prima le liberalizzazioni, è stato un suo cavallo di battaglia quando era ministro, quando era al governo. Sono passate la storia come le lenzuolate di Bersani. Lei ha fatto una battaglia contro tante categorie, dai tassisti ai farmacisti, agli avvocati. Insomma, l'obiettivo era molto nobile, perché era più concorrenza a favore di tutti noi. Io veramente ho fatto la liberazione del commercio, quella delle ferrovie, quella dell'elettricità. L'ho fatto solo le lenzuolate. Sono rimaste in mezzo al guado. No, sono rimasto in un accidente. No, è cambiato in quei settori, è cambiata in Italia. L'Enel era una società assistita, che portava debiti allo Stato. Ma io volevo farle parlare degli avvocati, però. Volevo farle vedere come ha giudicato la liberalizzazione, la categoria degli avvocati rispetto al problema della tariffa minima. Vediamo un po'. Andiamola a vedere. Il Tribunale, che è nella zona clou di Venezia, la più bassa, dove c'è l'acqua alta, come si può vedere, e dove c'è il ponte di Rialto. Quindi è nel cuore di Venezia. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Posso depositare a distanza? Grazie. E metterò a conclusione della mia attività una parcella, qui farà seguito ovviamente una fattura, e questa parcella prevederà una serie di voci che corrispondono alle singole attività svolte dall'avvocato. Mentre prima il compenso era tra un minimo e un massimo, con il decreto di Bersani è stato eliminato il minimo. Se poi vogliamo capire quali sono stati gli effetti che il precipitato dell'abbattimento dei minimi tariffari, uno degli effetti è stato anche questo, e cioè l'Inps ha diramato un avviso con il quale chiede di creare delle liste di avvocati triennali e il compenso, che è stato fissato, ed è chiarissima l'indicazione, è a 250 euro, oltre IVA e CPA, corrisposto alla fine del procedimento e compensa in ogni comprensiva l'intera attività professionale, ogni spesa, addirittura le esemplifica in viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta. Ci stanno proponendo dei compensi che sono contrari alla dignità e al decoro di qualsiasi lavoratore. Allora Bersani, eccola qui, direttamente da Venezia, questa giovane avvocatessa, brava, combattiva, si chiama Anna Zampierone, ed è molto arrabbiata con lei, che l'ha trasformata in una lavoratrice low cost, praticamente come un call center è diventata l'avvocatura, secondo Anna. Anna, che le vuol chiedere lei a Bersani? Beh, una prima analisi. Lo scopo della liberalizzazione e probabilmente l'abbattimento dei minimi tariffari per voi voleva avere probabilmente uno scopo nobile, cioè aiutare il consumatore ad attingere la domanda di giustizia in termini di maggior o minor costo e probabilmente un volano per i giovani per creare maggiore concorrenza all'interno della categoria e quindi maggior lavoro per i giovani. Non avete raggiunto nell'uno, nell'altro. C'è poco da fare. E se non ve ne siete resi conto, beh, insomma, a questo punto è bene che ve ne rendiate conto perché se questi sono gli auspici per un futuro, la categoria professionale degli avvocati è una categoria che deve essere identificata per il rapporto di fiducia con il proprio cliente, non perché costa di meno. Perché se costa di meno, non lo dice soltanto la Corte di Giustizia, la Cassazione, vale di meno la qualità professionale, è necessaria identificarla e garantirla. Solo per gli avvocati. Solo per gli avvocati. Io parlo per la mia categoria professionale. No, no, parlavamo prima di operai, parlavamo prima di cose. Cioè, signora, mi faccia dire questa cosa. Lo so anch'io che il primo effetto di una norma così significa dare subito la sveglia a chi è in grado di svegliarsi. Sono le grandi aziende e le compagnie assicurative. Che sono proprio loro che ne hanno goduto, infatti. Eh, lo so anch'io. Perché arrivi al consumatore, lo so anch'io che una liberalizzazione ha bisogno di una manutenzione, di andare avanti, non di andare indietro, regolando gli eccessi. Regolando gli eccessi. E conoscendo la categoria, conoscendo dal di dentro la professione. Signora, questa obiezione, io voglio bene le professioni. Voglio bene. Ma lei mi spieghi perché noi abbiamo il più alto numero di avvocati d'Europa e importiamo gli avvocati. Me lo spieghi. Che vuol dire che li importiamo, che abbiamo gli studi internazionali in Italia? Perché, per esempio, sono vent'anni che non si vuole fare una norma sulle società professionali. Io che sono a favore delle professioni, perché lui è emiliano. Un commercialista è stato fondamentale per lo sviluppo dell'impresa, della piccola impresa. Scusi, no, ma torniamo. No, no, arrivo. Negli anni 70. Certo. Perché risolvevi i problemi di allora. Adesso, per risolvere all'italiano i problemi di oggi, bisogna che le professioni si dirano una struttura e una capacità di muoversi che sia comparabile a quella di altri paesi. Ma lei non sa che le professioni sono ordinate per legge? Ma signora, lo so. Ma quindi la legge deve derivare da voi, dal legislatore, una riforma adeguata? Signora, lei sa quanti avvocati ci sono in Parlamento, lo sa, sì. Però posso dire una cosa? Tutte le dichiarazioni recenti sono di tutti i magistrati. Ma le tariffe minime? Torniamoci con le tariffe minime. Le tariffe minime, la logica è questa qui. Per esempio, le tariffe minime è il famoso forfait che suscitò tante cose. Qual è la logica? No, più che altro il quotalite che suscitò. Vabbè, quotalite. Ho parlato di cose complicate che non capiamo. No, quotalite è che ti pago... Se vinci la causa, vinci la proporzione. In proporzione che vinci la causa. Grazie per la spiegazione. Io sono un giovane avvocato, ok? Dico, non sarò carnellutti, non sono il principe del foro, però per mettermi a lavorare io provo a farti questa causa di divorzio. Ti dico prima quanto ti chiedo e a prescindere dalla tariffa minima è in ragione del risultato. Io capisco che una cosa del genere è dirompente di un sistema e quindi poi c'ha delle disfunzioni che vanno via via regolate, ma se non si stacca mai il primo anello della catena, non si cambia mai niente in questo paese qua. Allora, perché noi riconosciamo che un giovane che va in fabbrica, che va a cose... Può avere una retribuzione minore... Gli avvocati giovani sono tutti con Anna, non c'è un solo avvocato giovane in Italia che dia che questa riforma è servita. Noi siamo molto informati, abbiamo visto i blog, cioè è veramente una cosa che per i giovani è stata molto pesante. No, questo adesso... Si pensava di dare una mano ai giovani per aprirsi alla concorrenza. La verità è che la categoria è una categoria che è ontologicamente concorrenziale. Siamo a 200.000, per cui non è pensabile che la nostra categoria sia una categoria di una casta chiusa. Non lo è assolutamente. E un giovane diventa concorrenziale con un grande avvocato, non perché costa di meno, ma perché ha più grinta, perché ha più tempo, perché ha più tempo da dedicarsi al cliente, perché ha più voglia, più entusiasmo, più passione. Che solo un giovane ha... Io so bene quella risposta alle cose. Quando si stacca il primo anello poi devi andare avanti e devi organizzare quel che viene fuori. Quando c'ha il primo anello e poi si blocca tutto, è chiaro che c'è una contraddizione. Io quando trovo un giovane farmacista che ha aperto una parafarmacia, adesso quando mi incontra mi dice, ma adesso io come faccio? Lo so anch'io che lui ha investito e adesso rischia di essere rovinato. Ma perché non si è andati avanti? Io le leggo Tremonti che ha detto che le lenzorate di Bersani ci sono ancora, non sono state abrogate, ma sono servite a poco. No, lui non può dire questo perché ha abrogato l'abrogabile, a cominciare dal modo con cui per esempio c'era la trasferibilità dei mutui, che qualcuno ci è riuscito come vince l'ulterno all'otto, perché l'hanno complicata e l'hanno casinata e l'hanno cosa. Le farmacie hanno bloccato... Quindi mente Tremonti quando dice che non sono... Ma cosa si occupa Tremonti queste cose qui? Sa cos'è una parafarmacia Tremonti? Di che si occupa Tremonti? Non lo so, non sa cos'è una parafarmacia. I giovani parafarmacisti che hanno lavoro in farmacia sono là, che gli fanno sconti ai pensionati, che ricorda, ci hanno guadagnato tutto, abbiamo dato occupazione, si sono ridotti i costi del ministro, no, te lo bloccano e non puoi andare avanti. Ma perché?